Ciao a tutti ragazzi qui Fire, oggi vi avviso che ho aperto un altro canale, un canale inglese Chi vuole si può iscrivere, lo trovate qui e qui e qui e qui e sulla descrizione Nei canali preferiti, nei canali consigliati, in alto a destra, in basso a sinistra E mettete il tasto like se ne siete convinti, avete capito? No ragazzi, semplicemente ho aperto un canale inglese, chi vuole lo segua, chi non vuole non lo segua Qui farò video esclusivamente in inglese, tratterà prevalentemente di Hunger Games Quindi se volete fateci un salto, bella ragazzi, al prossimo episodio, bye bye Grazie